Eccoci ancora da Non Solo Anima TV, quest'oggi siamo con un personaggio davvero particolare, è con noi l'avvocato Marco Della Luna, psicologo e autore del best seller Euroschiavi, insomma chiunque abbia voluto mettere il naso nel mondo della finanza non può non aver letto questo libro meraviglioso. Avvocato Della Luna, come mai oggi ci si trova ad un convegno come questo e come mai la sua presenza? Di cosa si tratta? Questo è un convegno sulle monete complementari, le monete complementari sono lo strumento con cui si può iniziare a introdurre il rimedio specifico di cui la società e l'economia hanno bisogno per evitare una recessione altrimenti catastrofica nel giro di due anni al massimo. Questo strumento è la moneta che nasce senza debito. La presente crisi è una crisi dovuta al fatto che tutti i mezzi monetari, tutto ciò che noi usiamo come denaro è generato attraverso un'operazione di indebitamento e questo indebitamento genera a sua volta interessi passivi che si cumulano annualmente o semestralmente e producono quindi una situazione in cui il debito totale pubblico e privato cresce esponenzialmente e assorbe completamente la capacità di reddito e diventa ormai multiplo della quantità di denaro esistente. Questa è la vera profonda ragione non detta della presente crisi finanziaria, monetaria ed economica. Per un utente di quelli che ci ascolta capire esattamente che cosa significa una moneta locale perché noi abbiamo l'euro. Cosa significa? La moneta locale è una moneta emessa da gruppi volontari di cittadini che si associano e concordano tra di loro di accettare in pagamento parziale dei loro crediti una moneta che emettono essi stessi a costo zero senza contrarre alcun indebitamento, quindi senza generare inflazione e che aumenta perciò il loro potere di acquisto essendo una moneta prodotta ed emessa localmente essa va soprattutto a comprare beni e servizi prodotti localmente dall'artigianato, dall'agricoltura e venduti nei negozi locali, nella piccola distribuzione perciò dà una risorsa per migliorare le vite dei cittadini e insieme un sostegno ai commercianti, gli artigiani e ai professionisti della zona e gli agricoltori. Non ci risulta che lei sia contro la moneta unica europea e la sua diffusione, pur tuttavia oggi qui a promuovere una moneta tra virgolette locale questo significa che ha delle previsioni particolari o vuole raccontarci qualcosa sulla moneta ufficiale? La moneta ufficiale, la moneta unica ha come unico difetto ma è un difetto essenziale, un peccato originale terribile, il fatto che viene prodotta come tutte o quasi le altre monete attraverso un indebitamento, cioè viene emessa dalla banca centrale in cambio di titoli del debito pubblico. Quando adesso sentiamo che i governi emettono moneta per iniettarla nelle banche in difficoltà, cosa succede in realtà? Che i governi emettono obbligazioni, titoli del debito pubblico e li scambiano con moneta creata dalla banca centrale europea e perciò aumentano il loro debito, il nostro debito e creeranno una moltiplicazione degli interessi passivi nel futuro. Praticamente stanno dissetando un assetato con acqua salata. In che modo lei crede che possa dare slancio alle economie locali una moneta tra virgolette alternativa o parallela all'euro come lo Scheck? Le monete alternative o parallele o complementari esistono da circa 2.700 anni. Sono state dominanti in Giappone, sono state ben rappresentate in diversi paesi, tutt'ora sono molto usate in Germania, in Svizzera dove hanno il VIR, c'è anche la banca VIR, VIR è un pronome che significa noi in tedesco, ci sono in Austria, in Francia, negli Stati Uniti, in altri paesi e in effetti hanno sempre in ogni situazione aumentato il potere d'acquisto, quindi il giro d'affari, quindi il benessere. Avere un 10% in più di potere d'acquisto consente a una famiglia di evitare la perdita della casa, consente di evitare l'asta della casa, consente di salvare il tetto, consente a una famiglia di andare al ristorante ogni tanto o in pizzeria. Questo si ricollega a un tema forte che è quello della svalutazione, siamo di fronte a un momento storico in cui i tassi di interesse crescono di più del PIL, questo cosa significa in termini di inflazioni? Che previsioni abbiamo a 6, 8, 10, un anno oggi? Innanzitutto significa che la Banca Centrale Europea ha voluto aumentare la cosiddetta inflazione, cioè l'esalutazione dell'euro, aumentando il tasso di interesse. Quando la Banca Centrale Europea o qualsiasi altra banca centrale aumenta il tasso di interesse, rende più caro il denaro, ma siccome il costo del denaro è un costo di produzione dei beni e dei servizi, si scarica poi sui prezzi e sulle tariffe. Quindi la Banca Centrale Europea, pur dicendo falsamente, di alzare il tasso di interesse per contrastare l'inflazione, in realtà ha suscitato un rincaro generalizzato proprio con l'alzare il tasso di interesse. E notate bene che da quando ha incominciato ad alzare il tasso di interesse con quel pretesto, in tutta l'eurozona si è avuta un'impennata dei prezzi. Nel futuro molto dipende dagli scelti dei Stati Uniti, perché tutto dipende ultimamente dalla posizione pericolante del dollaro. E questo è legato ad opzioni, che sono anche opzioni belliche, una guerra contro l'Iran, che potrebbero modificare lo scenario molto rapidamente. Tuttavia il pericolo maggiore non è tanto la svalutazione dell'euro, la perdita del potere d'acquisto dell'euro, quanto la possibilità che le banche smettano di riconoscersi, cessino di riconoscersi reciprocamente il denaro, cioè il credit, cessino di farsi credito reciprocamente, nel qual caso ciò che noi usiamo come denaro semplicemente cesserebbe di esistere e anche che cessi l'alimentazione di denaro, cioè la disponibilità di denaro, di liquidi per far andare avanti l'economia, che è come se cessasse il sangue all'interno del corpo, se scarseggiasse. Adesso sta già scherseggiando molto. Se scarseggiasse ancora di più perché il governo lo toglie dall'economia per sostenere le banche, per evitare il loro faldimento, allora avremo un disastro, veramente una catastrofe economica. Però se noi incominciassimo a generare e a usare una moneta prodotta senza indebitamento e produrre moneta non costa nulla, è gratuito, la moneta sono pezzi di carta o impulsi elettronici, se incominciassimo a usare questa possibilità allora potremmo risolvere il problema della liquidità dell'economia e dei consumi, potremmo ridare fiducia alla gente e quindi potremmo far ripartire il ciclo in modo positivo e sostenibile, al contrario dei cicli passati, che sono magari partiti bene, ma in modo a medio termine insostenibile. Infatti adesso sta crollando tutto nel debito. Questo però sembra un po' utopico in termini temporali, di fronte a una catastrofe economica che pare alle porte, l'introduzione di una moneta locale del genere che dovrebbe nascere da contesti locali, comuni, province o comunque piccole comunità di persone, non accadrà bravissimo, cosa possiamo pensare quindi? È già accaduto, ci sono già comunità che le usano. Vuole citarne un paio di due o tre casi italiani? Hanno incominciato a Napoli con lo Scec, ad Ariccia, a Roma, in Toscana, si farà presto nel Veneto, ci sono molti progetti regionali, comunali o provinciali di questo tipo, in Germania ci sono almeno 30 città che la usano. Cosa può fare? È attuale, sta già avvenendo. Certo, e quindi cosa può fare oggi il cittadino comune che non abita in uno di questi contesti dove queste monete locali esistono per dare, tra virgolette, il proprio contributo al cambiamento di questo paradigma, se così lo vogliamo chiamare? Può contattare la rete delle monete complementari locali arcipelogomoneta.it o centrofondi.it e chiedere se c'è qualche altra persona interessata nel suo territorio per costituire un gruppo operativo oppure associarsi ai gruppi già esistenti. Vogliamo chiudere perché ovviamente qualche messaggio positivo l'abbiamo lanciato ma anche qualcuno un filo catastrofico con tre consigli di numero che vogliamo dare ai nostri ascoltatori. Ma io direi in una situazione che potrebbe degenerare rapidamente vivere intensamente al meglio il presente perché del domani non c'è certezza. In secondo luogo concentrarsi sull'acquisizione di capacità lavorativa e professionale, cioè imparare bene a fare qualcosa di importante, qualcosa di tecnologico ma anche qualcosa di legato alla produzione dei beni primari, l'agricoltura, l'allevamento. E in terzo luogo stare ben attenti agli investimenti e cercare di differenziarli in modo da evitare di essere travolti ma fare anche scorte di denaro di qualcos'altro per i prossimi anni. E quindi un'ultimissima. Questi risparmi e queste scorte dove dobbiamo tenerli, metterli, investirli? Che consigli dà? Certe scorte, ad esempio i cereali, vanno tenuti in un luogo secco, asciutto, altrimenti fanno funghi, muffe e degenerano. I risparmi una buona parte direi di tenerli in contanti. Un'altra parte, in titoli di Stato oppure garantiti dallo Stato, esistono cose come Eurocash oppure quei buoni emessi recentemente dal governo inglese garantiti dalla Corona. Cosa di liquido e pronti a passare, anche a trasferire il denaro, gli euro, in Germania o in Austria perché è possibile che l'euro, ci si facciano due euro, un euro italiano, un euro meridionale che venga salutato dal 30% rispetto all'euro dei paesi forti. Allora si perderebbe il 30% del valore. Ringraziamo l'avvocato Marco Dallunni di essere stato con noi e un arrivederci a presto. Grazie, avvocato. Prego, è stato un piacere.